E finisce qui la partita a Firenze, allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina batte 2-0 la Lazio, mamma mia che Vlaovic, mamma mia Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giapiaz, oggi siamo andati qui nel Giapiaz, commenta nel post partita di Fiorentina Lazio che finisce 2-0 per la Fiorentina con doppietta di Dujan Vlaovic, un attaccante che sta veramente facendo gli sfracelli in tutti i sensi sia al fantacalcio che ovviamente è un grandissimo calciatore, io sinceramente che la mia Roma ci sta sotto, mi fa solo che piacere Fatemi sapere la vostra se avete visto la partita, vi invito a lasciare subitissimo un bel pollice in su, un bel mi piace un commento se avete visto la partita, che ne pensate, adesso la lotta diciamo per il post in Europa League tra Roma e Lazio si fa tosta è vero che ancora sta più 5 se non sbaglio o più 3, non mi ricordo, però c'è una partita in meno da Lazio quindi ancora non è detto niente, può succedere tutto questo campionato, quest'anno è veramente strano e la Fiorentina piano piano si avvicina a una salvezza tranquilla e quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi ricordo oggi pomeriggio è uscito il post partita del Napoli andate a recuperare il post partita di Spezia Napoli, trovate qui nelle schede a fine video o se no ve lo lascio nei commenti e ovviamente seguitemi su Instagram e sulla piattaforma viola, sempre Giapio, trovate i link tutti sotto in descrizione parlando della partita, io voglio dire subito una cosa diciamo che la Lazio oggi non ha fatto una gran partita inizialmente era ancora per, diciamo nella prima mezz'ora un po' la Lazio è stata propositiva poi diciamo si è scoperta tanto, è vero che mancavano diciamo il primo gol arriva appunto al minuto al 32esimo con la rete di Dujan Vlaovic grande giocata di Castrovilli che passa la palla attraverso ovviamente è fortunato pure che c'ha un rimpalla a favore dà la palla a Biraghi che fa un cross teso dove Vlaovic davanti alla porta non sbaglia Reina diciamo spiazzato praticamente e questo è il gol dell'1-0, finisce così diciamo il primo tempo poi il secondo tempo, diciamo la Lazio sembra un pochettino entrata col piglio giusto però Correa oggi è stato veramente insufficiente si è mangiato, ha giocato male, si vedeva che non sta mangiando ovviamente Correa gioca bene solo quando ce l'ho contro il Fanta Calcio fa doppietta, quando invece non ce l'ho contro questa settimana ce l'ho contro in un altro Fanta per fortuna ha preso 5 e comunque oggi male, ma nel complesso tutta la Lazio ha giocato male diciamo pure Lazzari, Luis Alberto diciamo non c'è stata proprio oggi la Lazio sul pezzo è mancata proprio e diciamo Immobile pure ci ha avuto diverse occasioni per buttarla dentro tra salvataggi di Milenkovic e appunto le parate di Drongoski diciamo oggi la Fanta è stata perfetta perfetta, grande prestazione di tutti quanti Biraghi super prestazione Castrovilli forse uno dei migliori in campo Vlaovic penso è il migliore in campo ma comunque uno dei migliori quindi Castrovilli, Vlaovic, Biraghi, Ribery ma regà ma Ribery ragazzi ma che partita ha fatto oggi Ribery? un diavolo a 4, veramente ha fatto ammoni mezza difesa oggi Ribery ha fatto ammoni tutta la difesa dalla Lazio e poi nel finale tra l'altro quindi la Lazio praticamente tre quarti di squadra erano tutti ammoniti e poi nel finale quindi al settantasettesimo all'ottantanovesimo arriva il gol il secondo gol di Dujan Vlaovic su colpo di testa c'è stato un rimpallo non mi ricordo comunque è avvenuto il secondo gol di Dujan Vlaovic quindi non so quanti gol è arrivato dopo che vi dico poi nel finale al novantesimo Lazio addirittura finisce pure in 10 doppia munizione per Pereira che è sotto la doccia voglio vedere un attimo quanti gol è arrivato Dujan Vlaovic vediamo un attimo Marcatori Vlaovic che è terzo nella classifica cannonieri primo Ronaldo a 27 Lukaku a 21 Vlaovic 19 gol Vlaovic 19 gol ma ci scherziamo raga? 19 gol vabbè sono un botto regà veramente tanti cioè praticamente l'80% il 90% dei gol della Fiorentina sono tutti i Dujan Vlaovic un po' come Simi nel Crotone il 90% dei gol praticamente segna solo la punta solo che non mi carica voglio vedere un attimo la classifica comunque fatemi sapere se avete visto la partita qui non mi carica la classifica voglio vedere non me la carica vabbè sì eccola me l'ha caricata zitti tutti allora appunto l'Inter vabbè 85 prima Napoli a 70 che ha vinto l'Atalanta a 69 la Juve a 69 ma devono ancora giocare Juve e Milan che stanno a 64 no 69 sempre il Milan ci sono tre squadre a 69 che devono tutte giocare la Lazio rimane a 64 la Roma che deve ancora giocare sta a 55 vedi se vinciamo dovremmo andare a meno a meno a meno 6 se non sbaglio e poi diciamo la Fiorentina sta abbastanza posizionata bene al tredicesimo posto con 38 punti diciamo abbastanza quasi salva mancano due punti per la salvezza tra virgolette fatemi sapere la forza qui sotto se si salverà ovviamente con quanti punti si potrebbe salvare la Fiorentina quanti gol farà Vlaovic da qui a fine campionato ditemi qua sotto nei commenti e niente ragazzi a qui è tutto e noi come al solito ci vediamo un prossimo video bella ragazzi sempre e comunque forza al calcio e forza a Roma sempre bella ciao raga